Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, vorrei farvi vedere Warface E niente, è normale Leo57 perché ormai è andato in pensione, è troppo vecchio E' Roberto il coglione Sì Bello a tutti i ragazzi, è venuto in questi uomissimi video su Leo57 e oggi siamo con Superk56 e Roberto58 E' bello che Superk56 è scomparso dal gioco Sì, è spartacus 2005 scusa No, è uno che ho trovato così Ah, 20.500, perché gli ho chiesto l'amicizia? Così, allora, andiamo a giocare va Allora, io vi invito E invece non l'accetto Io penso, perché ho messo pending Ok, tanto il mio stanno andando più veloce rispetto Sì, lo so Ma devi parlare un po' più forte BELLA! Muori! Ma anche no! Com'è secondo te la tua collezione... No, ma entro, entro... Sì! Che bello! Che bello adesso il gioco esplode e tutti fanno... Posso usare il computer? Oh! Oh! Che cazzo ho fatto? Ho trovato un bug! Eeeh sto facendo qualcosa di strano! Aiuta! E l'ho fatto io! Questa cosa di... Aspettare i 6 secondi! 3... 1... 1... BOOM! Get out of the way! Get out of the way bitch! Tanto! Tanto! Roberto 58... Si sta guardando... Grazie alla mia! Grazie alla mia! Siamo tutti e tre nella stessa squadra! Ah basta quella musica! Tutto in pista! No perché c'è... No perché c'è... Campa... Se vuoi la metto io nel video eh! Però basta che lo smetti di metterla! E' l'ottimo! Non edit i video bene! Devi editarli! Perché ci senti in... Scusate! Ma perché quando ti arrivano i messaggi... Ma quando ti arrivano i messaggi... Ma quando ti arrivano i messaggi... Si sente un... Allora adesso sentirete solo la vibrazione! Aspettate! Eh la vibrazione! Scusate ragazzi! Scusate ragazzi! Abbiamo il computer di là! Adesso accendiamo... Allaccheriamo il video! Questo video è molto... E' pazzo signori! Seguite... Gli dico il nome di A57 ineditamente... Poi gli chiedono... Ehi! Ehi! Si chiama! Si chiama! Ehi! Eccoli! Io vedo Roberto che... Io lo vedo! Io lo vedo! Io lo vedo! Io sono pronta! Se secondo quelli voleva portare una nuova serie... Sagarone! 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 Se li chiamo allendo a... Facciamo 15... Mi piace! Sagarone! Sagarone! No! Mi uccido! Mi uccido tre volte! Sagarone! 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 Infatti si vede che lo sei! Guardate il mio cadavere! Sto mettendo i pollici in su! Pollici in su! Quindi... Giovi con i pollici in su! Pollici in su! Pollici in su! Oh! Ma che cavolo! C'era una donna! C'era una donna! C'era una donna cazzuta! E... Campa vieni con me! No! Come sei? Il mio gioco è largo! Sagarone! Non lo sei anche qui! Girati! No! 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 Dai vieni cecchino che dobbiamo andare a prendere le bazooka! No! Adesso ti metto le bazooka! Sto andando a prendere le bazooka! No! Sto andando a prendere le bazooka! No! Mi sta aiutando un altro! No! 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 Vieni superkampa! Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì E' volato, è volato, veramente, so dov'è uno, seguimi Roberto Roberto si guarda tu sei un pittorio E' sopra, è la sopra Tieni con me Roberto State calmi Ma si fa un quisteroio? Vieni, vieni come a rubar Hello, it's me Vieni, 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 vieni Ok l'ho ucciso, l'ho ucciso un cecchino, sta uccidendo la femmina Sto cercando, sta uccidendo la femmina, sta uccidendo, sta uccidendo, sta uccidendo Sì, grande pro, adesso ti sono saltato dietro, vieni, vieni, aiuto, è un ingegnere? No, ho perso il potere, no, è anch'io, anch'io